Musica Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. La processione che ci apprestiamo a vivere è il prolungamento della celebrazione eucaristica e della sosta meditativa. La processione è il segno di un pellegrino che è pellegrino sulla faccia della terra e cammina tenendo lo sguardo fisso sui beni eterni. Chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci a vivere questa processione con l'atteggiamento di adorazione e di benedizione e di interpretazione. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.